Domanda del giorno, era rigore su Zagnolo e su Mauro Icardi? Fatelo sapere qua sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e passate in descrizione a seguirmi su Instagram, Dav93 e ragazzi per scaricare OneFootball gratuitamente per tutti i dispositivi Partiamo col video, buona visione! Deve mandarlo via il tuo lì, ma era da sola, ho fatto così e gli dai il calciatranco, spero che prendiamo gol, a meno che finiamo con questo Persic, e che cavolo? Aia, 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 no, no, gol, palo, madò, qua c'è andato di buona, dai Dio, ma non possiamo rischiare così, ha preso il palo perché ha sbagliato proprio Perché la Roma è in bambola Vabbè con la Roma ci abbiamo, che contro ti ricordi quella partita? Quando ne ha presi tre, tre palli, no, due anni fa almeno, che aveva preso due o tre palli L'anno scorso c'era rigore su di loro, abbiamo vinto noi 3 a 1 Cioè, guarda, le basta Sì, bella, vai Mauro, vai Mauro, no, sì, oh Mamma mia che ti sei mangiato Eh, ha fatto una bella parata, dai Bella, era bella questa però Gli ha basso un pallone pazzesco Brozovic Eh, Brozovic era forte Guarda qua, perfetto Era buona perché Perfetto, perfetto, è giusto, è giusto Eh, ma hai portato Cazzo Non poteva fare niente lì, cosa doveva fare? Più di quello Cioè, non è che ha sbagliato È stato Brozo Il gioco era quello, eh Sei solo, eh Dai, dai, Kipersic Dai, guarda Bravo, vai solo Ma che tiri Ma che tira Ma poi dici, perché gli dico che è un cradino Eh, lo so È un cradino Cioè, ma no, se ne vuole andare Dai, ma lasciamolo andare a gennaio Non aspettiamo giugno Di fisico Dai che buona Vai su sta palla Sì, uno Vai, che tira Sì Goal Goal E che cavolo Che tira È il gol Con quello che si è mangiato prima È il gol del derby per lui Dai Tre gole Oh, sei svegliato Mamma mia Però che cross dì ha fatto cosa? D'Ambrosio D'Ambrosio fa i bei cross comunque Ha fatto un cross del pazzesco Cioè, noi D'Ambrosio l'abbiamo eliminato con Dai, va ragazzi Dai Su Oh, ma cosa ha fatto? Ma che cazzo dico la fa Ma cosa ha guardato? Tu pensi che lui non l'ha vista, eh? Eh, si vede che non l'ha vista Non l'ha vista Ma va, la via Non l'ha vista, è stato fermo Dai, si sta bene Ma che cazzo dico la fa No, comunque per me Ma pericolo è un tiro in porta Sì, ma Ma io non ho capito Andando e ci è rimasto fermo Lo voglio rivedere perché Cioè, Andando e ci è rimasto fermo Tietro, non è troppo forte Guardalo Possibilmente magari era impossibile arrivarsi No, non ci è arrivato Troppo forte Si è abbassata poi Bravissimi Dai di là Dai, sta palla Dai che sono in tre Siete in tre Dai che buona Dai Perisic Ma cosa deve fare quel cratino lì? Non fa niente Deve uscire da questa squadra Ma non dico più niente Dai ragazzuoli Sì Mauro Icardi Dai, meno male Perché eravamo scoglionati Ma sì Perché Allora Questa partita qui Ogni volta che attacchi Fai un'azione da gol Perché non riusciamo a Avvicere 2-3 a 0 Perché Esageriamo Però Allora Sai quanti gol abbiamo avuto Questa partita Ma se le mangia E poi giocano troppo indietro Però È rigore netto pure questo Dai È rigore Lo dà Lo dà Eh ma è rigore Ma come fai a fare quel fallo lì così? Certo Cioè è giusto Cioè poi non gliel'hai dato nel primo tempo Rigore Ma gli sta bene Ma porco Dio Ma questo è un po' di sfiga Non devi andare No ha fatto così È giusto È giusto E non gliel'hai dato nel primo tempo Poi Dai santo Ma va Dai mi lo dira Dai santo Dai che lo prendi Dai santo Dai dai vai 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 E' su due Sta bene Basta Fisca pure in altissimo Fisca pure in altissimo Fisca pure in altissimo Grazie.